Tritta controlla ancora questo pallone di Tritta in area di rigore il destro, il colpo di testa c'è il gol, il gol del Corato con Dintrono, siamo giunti al loro minuto di gioco, Corato 1, Terlizzi 0. Tritta l'appoggio per Dintrono in area di rigore il destro di Dintrono del gol, il gol di Dintrono, Corato 2, Terlizzi 0 al 38esimo minuto di gioco del primo tempo, ha già riconquistato palla in area di rigore il sinistro per Tritta il destro e il 3 a 0. 3 a 0 di Tritta, sono passati già due minuti di recupero, vediamo Battista il sinistro e c'è il gol del Terlizzi. Il cross di Battista, il colpo di testa e il gol, il gol di Ferrareis. Il calcio di punizione affidato a Battista, il sinistro in area di rigore di Battista, il colpo di testa e il gol, incredibile, incredibile il pareggio del Terlizzi con Savoia. Al 31esimo minuto di gioco nel corso di questo secondo tempo.